In questa zona ci troviamo dove una volta c'era il mare. I terreni sono di origine sedimentaria. Questo sistema di allevamento è la pergola, permette all'uva di prendere aria su tutti i 360 gradi. È stata un'annata di quelle difficili che ha messo a dura prova la nostra tenacia nel lavoro del campo. Le difficoltà di lavorare e anche il bello di lavorare col tempo, con la gelata, la nevicata, i vari andamenti della stagione ti porta ad apprezzare la giornata bella del sole. È un'azienda a conduzione familiare, un'azienda che si tramanda dai nostri genitori, da generazioni. La passione per il nostro lavoro forse è nella messa nel latte da quando eravamo piccoli. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.